Sono Marco Negri, sono fotogiornalista. Il lavoro del fotoreporter è il lavoro più bello che esista in assoluto. La possibilità di raccontare con i vostri occhi la verità. Una verità che può piacere o meno. Se questo è il vostro sogno, gli occhi della guerra vi offrono questa possibilità. Una possibilità di confronto, di mostrare quello che avete ritratto con i vostri occhi. Di presentare i vostri progetti e anche tante idee che avete ancora nel cassetto. È la vostra giornata ragazzi. Grazie per la visione!